oh no non è 1, 2, 3 e rive dritto così E ti manda un po' di là No, ti manda Terribile, davvero Dovresti provare a prenderla più dritta Sei più inclinato ma non ti fa scendere Forse Merca boia Non riesci a prenderla proprio più dritto? Perché così ti impunti Sei più inclinato? Qua spainci devi prenderla Dovresti provare perché è proprio molle lì E lì c'è lo scalino vero? Dovresti provare a prenderla più dritto? 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 Sì devi tornare indietro mamma mia no 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 si pide nel ruoto di lì è peggio no dritto vieni avanti dritto anzi mandala un po' più in qua così si si ok ok perfetto tieni le dritte così la trazione ok